La strage via D'Amelio è tra noi e questa è la cosa più inquietante. Evidentemente questo potere che ha ordinato quella strage ha paura che qualche cosa possa cedere. Interviene qui, interviene lì, uccide, però evidentemente qualche cosa può cedere e quindi bisogna intervenire sempre chirurgicamente e i tentativi di depistaggio sono continui. Sì, ho accennato a quelle di cui l'opinione pubblica conosce, ma ve ne sono altri ancora pericolosi che potrebbero passare. E quel che a mio parere è grave è che l'omicidio di Gioé in carcere, l'omicidio di Luigi Ilardo, sono stato un Alexio Magistralis, un'esibizione di potenza straordinaria che ha chiuso e tappato le bocche. Biondini, Bagarell, Graviano, Madonia che stanno in carcere, sanno che c'è un potere che è in grado di entrare nelle carceri e di ucciderli. Sanno che se hanno dei figli, un'auto pirata può investire un figlio che si trova in mezzo alla strada. Quindi, in qualche modo, quelle lexio magistralis sono stato un atto di intimidazione che ha cucito le bocche. E, se questo già rendeva estremamente difficile la collaborazione, il colpo di grazia l'hanno dato le sentenze della Corte di Giustizia Europea, della Corte Costituzionale, che hanno sostanzialmente abrogato il decreto Falcone. perché hanno stabilito che i cosiddetti irriducibili, cioè i mafiosi condannati all'ergasto, che sono in possesso di informazioni importanti per individuare altri mafiosi che commettono omicidi e estorsioni o individuare gli autori di omicidi di stagio del passato, possono uscire dal carcere anche se non hanno collaborato. L'immediata ricaduta di queste decisioni è un'assoluta, la totale disincentivazione per la collaborazione. Ditemi voi, perché un mafioso che si trova da 30 anni in carcere dovrebbe collaborare tirandosi addosso ulteriori condanni per i diritti che commette, indicando tutto il suo patrimonio che è sfuggito alla confisca, quando può uscire dal carcere semplicemente distociandosi. Dopo 21 anni, non 26. Perché il beneficio della liberazione anticipata e la liberazione condizionale si somma con un altro beneficio, la liberazione condizionale, per cui c'è uno sconto e si arriva a 21 anni. Quali sono le motivazioni di queste decisioni? Vorrei fare una premessa. La legge stabilisce già che i mafiosi, i quali hanno avuto un ruolo secondario e quindi non hanno in realtà niente di importante da dire, possono uscire dal carcere anche se non collaborano, proprio perché non hanno niente da dire. La norma si applica, anche i concorrenti esterni, la norma si applica soltanto agli irriducibili. Quali sono le motivazioni per cui si è deciso che un mafioso condannato all'ergastolo ha diritto di uscire dal carcere anche se non collaborano? Sono essenzialmente tre. Uno, perché ho paura di essere ucciso per l'anno. ed è causa di riflessione perché abbiamo da una parte uno Stato che dice ai cittadini, al commerciante, all'imprenditore denuncia i carabinieri, avvi fiducia nello Stato perché noi ti proteggiavano e poi dice al mafioso incallito sì però te non ti posso proteggere quindi capisco che devi uscire dal carcere senza collaborare. Una schizofrenica, ci sono due. o lo Stato non è in grado di proteggere il cittadino o lo Stato è in grado di proteggerlo e quindi può proteggere il mafioso. Secondo, motivazione, il rifiuto morale di uscire dal carcere accusando gli altri. C'è una ripulsa morale. Non c'è una ripulsa morale a non parlare consentendo ai mafiosi che stanno fuori di continuare a uccidere, a estorcere, però c'è una ripulsa morale a non accusare gli altri perché io mi sento un infame. Ora, che un mafioso si possa sentire un infame secondo la sua subcultura è comprensibile ma per lo Stato chi collabora non è un infame. allora si può mettere si può mettere la cultura dell'omertà sullo stesso piano della cultura della legalità. Se un mafioso dice io per la mia cultura mi sento un infame quindi non posso collaborare lo Stato dice hai ragione la tua subcultura vale quanto la cultura della legalità. Ma che argomento hai? Terzo argomento è perché c'è un pentimento interiore e quindi una cessazione della pericolosità. Ed è esattamente la ragione che viene pienamente condivisa dal mondo mafioso. I mafiosi hanno sempre ritenuto da ieri dalla moglie di Bagarella che quello che conta non è pentirsi di ansia agli uomini ma è pentirsi di ansia a Dio. Quindi se io mi penso dinanzi a Dio dentro che importanza ha? Che non mi penso dinanzi agli uomini e quindi non collaboro. Il che significa che voi capite benissimo che un pentimento interiore proprio perché interiore può essere accertato non da un magistrato di sorveglianza ma da uno pscanalista da un palombaro dell'anima perché il magistrato di sorveglianza si può basare solo sugli indici esteriori di questo pentimento interiore e gli indici esteriori sono simulabili. Io parlo con i miei familiari al 41 bis e so che i miei colloqui sono registrati perché la legge lo prevede e comincio a dire stanotte mi hanno visitato i morti e la volta successiva i morti continuano ad abitare i miei sogni e ne metto 3, 4, 5 poi parlo col garante dei detenuti poi parlo col cappellano poi mi prendo una laurea tutto questo è dimostrazione di pentimento interiore come si fa a distinguere una simulazione attraverso la costruzione ragionata di indizi esteriori da un fatto interiore. Naturalmente la corte costruzionale ha compreso la difficoltà e quindi ha lanciato la palla dall'altra parte del campo al Parlamento dice entro maggio del 2022 dovete fare una legge e qui si apre una partita tutta politica tutta politica perché se le forze politiche che sono impegnate in tante altre cose non trovano il tempo significa che tutto è messo nelle mani del magistrato sorveglianza senza nessun criterio di legge oppure la battaglia sarà in commissione giustizia e il clima che c'è e il rapporto di forza politica non lasciano assolutamente ben sperare se consideriamo quello che sta accadendo con la riforma del processo penale dove hanno stabilito che non conta più la prescrizione il tempo di prescrizione previsto per i reati ci può essere un reato che il codice penale decide che si prescrive in trent'anni il disastro ambientale oppure il depistaggio attraverso il furto dell'agenda rossa che si prescrive in vent'anni non ha nessuna importanza se l'appello dura più di due anni a un giorno il processo si estingue come si estingue e le vittime e quelli che hanno subito ingiustizia anche se il processo in primo grado è durato due mesi con il rito direttissimo con il giudizio immediato e quindi due mesi in primo grado più due anni in secondo grado due anni e due mesi e il processo si estingue cioè ma come si può come si può prendersi preoccupazione soltanto di Caino e dimenticarsi a bele ma capisco che esista un'associazione che si chiama Nessuno Tocchi Caino e svolge un lavoro meritorio lo ribadisco ma non può diventare nessuno Tocchi Caino di Abele non ci importa niente qualcuno deve proteggere anche Abele in questo paese e a proposito del clima saremo impegnati nei prossimi mesi con il referendum della giustizia referendum che vogliono introdurre una pistola puntata alla tempia dei magistrati che non sono obbedienti che non si fanno intimidire che non sono sensibili alla sirena del potere e quindi ogni cittadino potrà citare direttamente in causa il magistrato che non gli piace il quale dovrà confrontarsi quindi con i potenti da solo e con il loro stuolo di avvocati pagatissimo ma chi potrà più avventurarsi da solo bisognerà difendersi continuamente da decine e decine di citazioni in giudizio referendum che vuole la separazione delle carriere con un pubblico ministero che dipende dal potere esecutivo andate a chiedere colleghi francesi quanti processi contro la pubblica amministrazione hanno fatto in Francia e pubblici ministeri ai tempi di Tangendopoli sono andato in Francia a fare dei dibattiti e mi complimentavo con i miei colleghi francesi perché lì non avevano tanti casi di corruzione non hai capito niente non è che qui non abbiamo la corruzione è che noi i processi di corruzione non li possiamo fare perché dipendiamo dal ministro c'erano stati solo due casi e tutti e due i casi erano finti sotto procedimento disciplinare questo è il nuovo sistema che vogliono introdurre e vogliono abolire anche la legge Saverino che stabilisce l'incandidabilità dei condannati per grevi e reati ecco la strage di Via D'Amelio come diceva è ancora tra noi in tanti modi veramente io credo che non bisogna cedere allo sconforto e in questo Paolo Borsellino ci ha dato una lezione che non possiamo dimenticare alla quale dobbiamo tenere fede lui non arretrò neanche dinanzi a quell'entità talmente forti e dinanzi alle quali egli sentì impotente sapendo di essere come una sorta di vittima sacrificale che doveva scendere nell'arena e scendere a scontrarsi con i leoni che l'avrebbero sbranato quello che possiamo fare noi è molto molto di meno quello di non rassegnarci nonostante tutto recentemente sono stato in un paese straniero e in una stradina ho letto una scritta che mi ha fatto riflettere c'era scritto se voi non ci lascerete sognare noi non vi lasceremo dormire credo che possa essere un buon punto di partenza grazie 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 a